Cremona spinge verso l'elettrico e lo fa con la diffusione capillare delle colonnine di ricarica 33 quelle già posizionate sul territorio comunale da Corso Garibaldi nel tratto davanti a Palazzo Cittanove e Piazza Sant'Agata a quelle di Piazza Gallina, da Via Bella Chioppella nei pressi di Piazza Marconi e Largo Paolo Sarpi in prossimità dell'incrocio con Viale Trento Trieste queste quelle più centrali mentre la maggior parte sono collocate davanti ai centri commerciali nelle aree di interscambio e in aree semiperiferiche dove l'impatto sulla red urbano è minore anche se in realtà non sono più impattanti di un qualsiasi parcometro ora speriamo nella risposta di Cremona che è ancora indietro nella diffusione di auto elettriche o ibride rispetto alla media delle altre province lombarde meno dell'1% del parco autocircolante secondo una recente rilevazione